Giulia Sarti, Movimento 5 Stelle, benvenuta. Buonasera a tutti. Fabio Rampelli, Fratelli d'Italia. Alve, buonasera. Allora, io come consuetudine vi concedo 40 secondi per presentarvi, diciamo così, dire le due o tre cose della vostra attività politica che vi interessa ricordare agli elettori, magari anche dovevi candidati. Giulia, cominciamo da lei, Giulia Sarti. Io sono una parlamentare uscente del Movimento 5 Stelle, ho fatto parte della commissione giustizia antimafia e della giunta elezioni in questi cinque anni e sono candidata in Emilia Romagna, in particolare nella circoscrizione di Rimini, Ravenna, Forlì e Cesena e all'uninominale di Rimini, della mia città, dove sono residente. Niente pluricandidature. Un tema importante di cui mi sono occupata in questi cinque anni e che purtroppo è poco trattato in questa campagna elettorale è proprio il tema della lotta alle mafie, che invece dovrebbe essere preponderante, soprattutto quando si parla di giustizia in questo paese. Il trovare l'intesa su un programma preciso, infatti ci sono stati mesi a metterlo a punto. Da noi, perlomeno i principali partiti, ma anche voi che siete qui, considerano le eventualità, l'ipotesi di creare una grossa coalizione nel nostro paese una specie di dannazione. Perché? Perché in questo paese si è sempre ragionato sullo scambio di poltrone e non su accordi volti al programma e a leggi che favoriscano i cittadini. Quindi noi lo chiariamo di nuovo. Nel caso in cui il Movimento 5 Stelle arrivasse ad essere il primo movimento con l'esito delle elezioni, noi faremo un appello a tutte le forze politiche per capire chi è che non ci sta sui nostri 20 punti di programma per migliorare la qualità della vita degli italiani. Dal reddito di cittadinanza, misura per ridare dignità e per combattere la povertà in questo paese. Ricordiamolo sempre, abbiamo più di 10 milioni di poveri e tantissimi milioni di persone che non riescono a curarsi in Italia ad oggi e via via tutte le misure per la piccola media impresa e per la lotta alla corruzione per favorire di nuovo l'ingresso dei giovani nel mondo del lavoro per rivedere le nostre politiche sul lavoro e sulle pensioni. Quindi è un'ipotesi di co... Un'ipotesi in cui vogliamo chiedere agli altri partiti perché non ci stanno sul programma e se ci stanno trovare dei punti di convergenza sul programma e non sulle pensioni. Quindi potreste arrivare a una coalizione se in caso ci fosse una... Ma è scettica sul fatto che... Sono scettica perché parlano i fatti e quello che abbiamo visto fino ad oggi le coalizioni che abbiamo visto e gli accordi che abbiamo visto fino ad oggi parlano di patto del Nazareno e di una destra e una sinistra che si sono rimpallati. Quindi sono scettica ma non si sa mai. Voi siete addirittura esclude che voi possiate da soli raggiungere l'autosufficienza di seggi parlamentari? Non lo escludo perché le contraddizioni si vedono già ad oggi e nel momento in cui si lancia una manifestazione e i tuoi principali alleati non partecipano a quella manifestazione nel momento in cui ci si contraddice su ogni cosa vedi oggi l'ultimo episodio sul condone edilizio significa che quella coalizione di cosiddetta centrodestra in realtà è falsata, non esiste. Si divideranno il giorno dopo il voto. Il problema, il punto è che Fratelli d'Italia come la Lega hanno bisogno di Silvio Berlusconi per rimanere in piedi. Quindi votare loro significa consegnare questo paese di nuovo nelle mani, dopo 24 anni, del condannato per frode fiscale che non sarebbe neanche elegibile, magari che sceglierà il giorno dopo di fare l'alleanza di nuovo con Renzi. Questo significa... Se niente a secondi di... Allora lei, per rispondere intanto a cominciare a rispondere alla domanda, qual è la forza politica che più, secondo lei, si avvicina, potrebbe incrociare il vostro programma e se poi magari aggiunge qualcosa su questo tema del condone di Lizio di oggi. Sì, insomma, chiamiamolo così, facilitazioni nel costruire... Autocertificazione di Lizio, però parto dalla domanda. Non sono certo io che devo definire o chiarire qual è la forza politica che potrebbe avvicinarsi di più al nostro programma. Noi abbiamo dimostrato in questi cinque anni di saper fare una dura opposizione e allo stesso tempo di pensare al benessere e a migliorare la vita dei cittadini quando c'erano temi come i reati ambientali, su cui ad esempio abbiamo votato insieme al Partito Democratico. È normale dirlo. E su altre cose ci siamo trovati più in accordo con le forze di opposizione come noi, come la Lega Nord o altri partiti. Questo è l'iter di questi anni, un iter normale per chi sceglie di fare un'opposizione fondata sui temi e non, come dicevo prima, sullo scambio di poltrone. Ora, saranno i cittadini a decidere. E' la capacità di governo che vi difetta, come dimostra Roma, come dimostra la Raggi. E' la capacità di governo che vi difetta. Perché altrimenti Ostia, che è il municipio di Roma più periferico che c'è, sarebbe finito nelle mani di Fratelli d'Italia se governare Roma fosse stato un problema. Invece a Ostia governa il Movimento 5 Stelle che ha dato fiducia e continua a dare fiducia a Virginia Raggi. La famiglia Spada era vicina a Fratelli d'Italia, a Casa Pound, sono certo, al Movimento 5 Stelle. In ogni caso, Rampelli, io non l'ho interrotta e mi spiace che lo faccia lei, anche perché lei parlava prima di una fantasia, un mondo che non c'è, oggi si parlava con Silvio Berlusconi in testa di autocertificazione edilizia. L'autocertificazione edilizia non è combattere l'abusivismo, significa regalare questo paese di nuovo nelle mani della criminalità organizzata, di stampo mafioso e di tutti quei poteri che se ne vogliono approfittare dell'abusivismo. Quindi questo era il tema dell'autocertificazione edilizia e dei condoni che abbiamo visto. Ed è normale che su questo loro litighino. Se già litigano in campagna elettorale, io non oso immaginare che cosa succederà dopo, lo abbiamo già detto. Avremo di nuovo il patto Renzi-Berlusconi per mettere questo paese di nuovo nel baratro. Noi combattiamo tutto questo facendo una scelta coerente, presentandoci sempre con il nostro simbolo, non prendendo in giro gli italiani. Quello che stanno facendo gli altri è prendere in giro le persone. Non è che si capisca molto bene questo, no? Come in caso vi porrete... Trattativa o appello? Non è uguale. Appello? Termine trattativa... Non le piace? No. No. Richiama un compromesso a ribasso, cosa che non ci deve essere. Ci saranno sicuramente dei punti fondamentali su cui non si transigerà. Sono quei punti caratterizzanti la nostra azione, già dimostrata nelle istituzioni dal Parlamento europeo fino ai consigli comunali. Lotta alla corruzione, lotta alle mafie, reddito di cittadinanza, favore per la piccola e media impresa, rilancio dell'occupazione nel mondo giovanile e tanto altro. Quindi sanità pubblica, scuola pubblica, la scuola che dovrà tornare ad avere un ruolo fondamentale. Oltre a tutto questo, però, è prematuro parlare oggi di quello che succederà fra un mese. E la prima cosa da fare, secondo me, oggi e di cui parlare è piuttosto come avvicinare di nuovo le persone a votare. Perché c'è una grande assente di cui non si sta parlando, e cioè l'astensionismo. Quindi io prima di ragionare su quello che succederà il 5 marzo, vorrei ragionare e cerco di fare un appello a tutte quelle persone che oggi o sono indecise o scelgono di non andare a votare.